notte delle candele mille controlli ai green pass nuovo ospedale puntare su muraglia apre nuovi scenari al san salvatore altro accoltellamento a marotta restano in carcere i quattro arrestati di sabato in bici alla scoperta dell'itinerario cicloturistico da raffaello al jenga una buona serata è un ben ritrovati dai nostri telespettatori apriamo oggi mercoledì 11 agosto 2021 rossini news facendo un passo indietro alla notte delle candele appena trascorsa l'evento quest'anno sotto la lente di ingrandimento per l'introduzione del green pass obbligatorio vediamo com'è andata nel nostro primo servizio non poteva che essere una notte diversa dalle precedenti quella che si è lasciata alle spalle la settima edizione di candele sotto le stelle rispetto al passato le costanti cromatiche sono state quelle del dress code total white e del chiarore delle migliaia di candele che hanno illuminato il litorale da fosso sei ore fino a gabice addentrandosi anche al castello di gradara a solcare la differenza è stata piuttosto l'obbligatorietà del green pass che ha influenzato l'accesso ad una festa che rispetto alle precedenti edizioni ha visto qualche presenza in meno sulle spiagge e vivacità dirottata sulle strade del lungomare e nei ristoranti praticamente tutti sold out ne è uscita una festa cucita su misura le accortezze del periodo pandemico dove il rischio di assembramento in spiagge è stato spostato su strade più sorvegliabili con un migliaio di controlli a campione sul green pass pochissime le persone trovate sprovviste che la polizia locale ha allontanato dall'evento ma senza multe festa dunque ma in sicurezza come sperava il sindaco matteo ricci come ogni anno è una bellissima notte fra l'altro caldissimo tantissime persone lungo la spiaggia centinaia e centinaia di candele che rendono il tutto magico grazie ai volontari della prologo di candelara e però l'abbiamo fatta col green pass perché è evidente che si spostano 30 40 mila persone ed avere tutte queste persone anche se distribuite lungo sette chilometri di spiaggia richiedeva un elemento di sicurezza in più vi voglio ringraziare la polizia municipale e le forze dell'ordine perché la polizia municipale ha già fatto circa mille controlli sul green pass ed è la dimostrazione che in maniera molto discreta si cerca di rendere questa grande manifestazione la più sicura possibile ma oggi parlando con dei miei amici ho detto ma provate ad immaginarvi se non avessimo messo il green pass quante polemiche ci sarebbero state perché comunque come vedete c'è tanta gente quindi credo che abbiamo fatto benissimo a introdurre questo strumento perché comunque la legge dice che gli eventi devono essere fatti con il green pass questo è un evento strano perché è distribuito però in alcune parti di città si creano delle aggregazioni quindi abbiamo fatto assolutamente bene un migliaio di controlli green pass come un migliaio erano stati i tamponi gratuiti effettuati al campus in mattinata da cittadini ma anche da turisti che non volevano perdersi l'evento ottenendo la certificazione verde ma c'è chi ha fatto di più come le poco meno di 100 persone che hanno approfittato dell'uscita serale per vaccinarsi in camper nell'unità mobile che l'asur ha predisposto per quattro ore alla palla di pomodoro soddisfazione per la riuscita di una festa in sicurezza non solo per il sindaco ricci ma anche per i primi cittadini di gabice e gradara domenico pascuzzi e filippo gasperi nella nuova intesa come riviera san bartolo e ricci guarda anche con speranza all'edizione 2022 si rinnova ogni anno quest'anno ovviamente l'abbiamo resa il più sicuro possibile con il green pass il mio sogno del prossimo anno che si possa tornare a ballare mi piacerebbe il prossimo anno che la notte delle candele possa essere una grande notte nella quale si balla da tutte le parti e ovviamente vorrà dire che sarà che avremo sconfitto il virus e che si potrà ritornare a fare delle cose che in questo anno alle quali in questo anno abbiamo dovuto rinunciare quindi spero che il prossimo anno sia la festa delle candele danzante ecco questo è l'obiettivo del prossimo anno perché vorrebbe dire che avremo davvero sconfitto definitivamente questa questa pandemia che ha purtroppo caratterizzato la vita dell'ultimo anno e mezzo a tutto il pianeta non solo il chiarore delle candele ad essere protagonista è stato anche l'effetto ottico della voragine alla palla di pomodoro creata dall'opera di antonio cammarano dedicata al moiset faraon che questa settimana ha alzato il sipario sulla 42esima edizione delle rossini opera festival è l'opera in anamorfico su 3d che più grande che sia mai stata realizzata in italia io ho partecipato a dei guinness world record negli stati uniti in olanda eccetera con i più grandi al mondo sono state delle grosse imprese con tanti artisti qui in italia così grande sul pavimento non è mai stato realizzato niente è stata una bella sfida ad apprezzare roff opera 3d e la stessa notte delle candele anche il ministro dell'istruzione patrizio bianchi in visita a pesaro non solo ma offre di più non solo offre tanto ma offre ogni volta di più e offre soprattutto questa grande capacità di legare la cultura la ricerca e le persone devo dire che veramente una grande lezione per tutto il paese nell'edizione del telegiornale di ieri vi abbiamo parlato delle prospettive in termini di edilizia ospedaliera che il sindaco matteo ricci ha pubblicamente esposto alla regione marche per costruire il nuovo ospedale attraverso un progetto di ampliamento modulare del nosocomio di muraglia se si percorrerà questa strada si apriranno nuovi scenari per l'ospedale san salvatore che vi illustriamo in questo servizio mantenere l'azienda ospedaliera marche nord bocciare definitivamente l'idea di un nuovo nosocomio a case bruciate e insistere piuttosto sull'ospedale di muraglia costruendo sul già costruito un progetto modulare ampliabile a step rispetto ai 400 posti letto attualmente previsti dalla regione marche è stato un invito all'amministrazione regionale ad uscire in fretta dallo stallo quello lanciato ieri nella mattinata di martedì dal sindaco di pesero matteo ricci nei confronti delle prospettive di ristrutturazione dell'edilizia ospedaliera è in corso in tal senso un filo diretto tra ricci il presidente della regione marche francesco acquaroli fatto di frequenti sopralluoghi sulle aree interessate naturalmente insistere su muraglia presupporrebbe un futuro molto diverso per quello che riguarda la destinazione dell'ospedale san salvatore di pesero dove ci troviamo oggi se muraglia avrà semaforo verde ricci ha messo sul piatto un paio di idee per il san salvatore che potrebbe essere parzialmente trasformato in una casa della salute in cui accorpare tanti ambulatori attualmente sparsi per la città fra vianitti viananter e parzialmente in un progetto pilota con residenze per anziani non autosufficienti sono idee sul tavolo di un futuro non troppo lontano perché secondo le prospettive di matteo ricci si punta a raggiungere un accordo su un piano d'azione già entro il mese di settembre non aspetta invece settembre il pronto soccorso del san salvatore dove già da qualche giorno è stato allestito un cantiere che prevede la riorganizzazione degli spazi tra queste quella di una separazione dei percorsi sanitari per i pazienti sospetti di contagio da covid 19 lavori che interesseranno anche una riorganizzazione della portineria nuovi spazi triage e rinnovate sale d'attesa la squadra mobile ha imposto ad un pesarese padre di famiglia il divieto di avvicinamento alla moglie e dal figlio minorenne un provvedimento coercitivo che è arrivato dopo la denuncia arrivata in questura da parte della donna quotidianamente minacciata dal convivente le indagini di polizia hanno ricostruito un quadro vessatorio di aggressioni fisiche violenze psicologiche e minacce di morte reiterate che hanno imposto l'interdizione dai contatti familiari altra notte di violenza all'alba marotta dopo l'episodio di sabato con l'aggressione ai carabinieri intervenuti al mio disco dinner lunedì sera un 43enne marottese è finito in manette per aver accoltellato un 47enne di ponte sasso episodio arrivato dopo una collutazione avvenuta nel cortile dell'abitazione dell'aggressore ubicata in via trentino l'aggredito è stato trasportato all'ospedale di pesaro con una lesione al rene guaribile in un mese e mezzo i carabinieri allertati da un vicino hanno colto in flagrante l'aggressore trovando l'arma utilizzata una pozza di sangue nonché l'aggredito che ha mostrato le ferite ai militari nella stessa giornata di ieri sono stati convalidati gli arresti dei quattro giovani responsabili dell'aggressione con accoltellamento al mio disco dinner si tratta di due albanesi un senegalese e un dominicano ora rinchiusi nel carcere di villa fastigi migliorano invece le condizioni del 25enne senegalese residente a san che è stato accoltellato all'addome e dopo il mio disco dinner la questura ha chiuso anche la baia imperiale serrande abbassate per 15 giorni per la nota discoteca di gabice il locale avrebbe infatti violato l'enorme anticontagio con centinaia di ragazzi assembrati in pista a ballare nonché la rilevazione di episodi di ubriachezza molesta e risse da lunedì 16 agosto i cittadini appartenenti alla fascia d'età 12 18 anni potranno ricevere la vaccinazione accedendo senza bisogno di prenotazione ai punti vaccinali attivi sul territorio regionale un'iniziativa rivolta a dare ulteriore impulso alla vaccinazione dei più giovani in presivisione della riapertura delle scuole intanto c'è una lieve risalita dei contagi 208 oggi nuovi casi registrati nelle marche con una percentuale di tamponi positive che sale dall'otto al 12,8 per cento continua il progetto di riabbellimento dei sottopassaggi di pesaro attraverso opere di street art oggi c'è stato il taglio del nastro al riqualificato sottopasso di loreto ci troviamo proprio all'interno del sottopasso di loreto che stamattina è stato inaugurato dal comune di pesaro in quello che è il progetto sottopassaggi di arte urbana che ha avuto inizio con il sottopasso di via la mar che è avvenuto qualche settimana fa e che ora è al secondo capitolo il progetto denominato musical life rappresenta strumenti musicali pentagrammi e artisti proprio in onore della città di pesaro che città della musica siamo molto contenti fra l'altro abbiamo riqualificato tutto piazzale davanti alla chiesa di madonna di loreto e con la rotatoria adesso è definitiva e c'è questo intervento e in futuro vogliamo fare la ciclabile su via cialdini via gasperi quindi come dire è un asse che si che si rafforza e si completa quindi davvero complimenti agli artisti e andiamo avanti così colorando e rendendo la città sempre più attrattiva anche un luogo di arte urbana facendo diventare l'arte urbana un pezzo anche della proposta culturale pesarese come ogni anno l'associazione reperti urbani cerca di portare artisti internazionali per farli conoscere la città di pesaro quindi l'organizzazione non è stata semplice è stata lunga è stata molto laboriosa però alla fine in soli due settimane siamo riusciti a completare sia il sottopasso carrabile che quello ciclopedonale musical life è un omaggio alla musica e ai musicisti che sono i veri creatori di della musica e all'inizio del sottopasso ciclopedonale abbiamo un grande direttore d'orchestra che appunto guida tutti i musicanti che abbiamo intorno con ogni sorta di strumento musicale e che questi accompagnano simbolicamente i passanti nelle loro passeggiate la parte carrabile invece è un enorme pentagramma dove i colori si fondono con una cadenza ritmica e quindi quasi astratto per lo più e insieme all'opera musical life è stata realizzata una serigrafia numerata e firmata dall'artista geometric bang e in vendita sui nostri canali e queste l'acquisto di questa serigrafia costituisce un importantissimo contributo per la realizzazione dei progetti futuri di reperti urbani dopo il sottopasso di via la marca è realizzato a tema diciamo camillas facendo un omaggio alla famosa band pesarese è stata la volta del sottopasso di loreto il primo sottopasso di loreto perché poi il prossimo anno faremo ecco quello che invece dalla da monte granaro va verso il centro il progetto è stato è stato affidato all'associazione re un reperti urbani che ha coinvolto un grande artista nazionale che è geometric bang e hanno fatto questa bellissima opera che è dedicata diciamo la città della musica infatti chi avrà il piacere di passare nel sottopassaggio vedrà comunque sia tante figure di musicisti e con tantissimi colori che in qualche modo riqualificano e tolgono un po di degrado alle zone grigie della città questo è quello che il progetto si prefigge continua la siccità e ora scattano i provvedimenti per contrastare l'emergenza idrica considerata la significativa contrazione delle portate dei corsi d'acqua nella provincia di pesaro urbino l'ufficio tutela del territorio ha disposto la sospensione di tutti i prelievi dai corsi d'acqua superficiali presenti nel territorio della provincia di pesaro urbino dal 13 agosto fino al 15 ottobre il divieto non riguarderà i prelievi destinati all'uso idropotabile e all'ebbeveraggio del bestiame la violazione alle disposizioni prevedono il pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 a 30.000 euro o nei casi di particolare tenuità da 300 a 1.500 euro anche marche multiservizi attraverso un comunicato ufficiale invita la cittadinanza a contenere i consumi d'acqua l'azienda scrive siamo consapevoli di richiedere a cittadini e imprese uno sforzo importante ma è necessario in condizioni di criticità il contributo di tutti ribadiamo la necessità che l'acqua sia utilizzata solo nelle sue funzioni di primaria utilità rossini tv è stata ieri al monastero montebello di isola del piano dove è stato presentato l'itinerario cicloturistico da raffaello al jenga oggi siamo qui a presentare questa questo bellissimo itinerario da raffaello al jenga di monte feltro adventure bike and walk bellissimo una cosa molto interessante perché si snoda su un territorio incontaminato su un tenitorio che ha dato i natali anche all'agricoltura biologica italiana e qui che nasce a montebello e che puntiamo ad avere un turismo come ho detto in altre occasioni un turismo slow cioè le cose bisogna farle veloci indubbiamente però sento sempre più parlare di velocità accelerazione velocità accelerazione però arriva il momento in cui il turista deve arrivare e sentirsi a suo agio andando piano calmo vedendo tutte le sfumature del territorio coi vari colori coi vari profumi e andando a degustare quelle che sono le nostre eccellenze agroalimentari che sono tantissime e che devono portare poi il turista a fare innamorare del nostro di quello che è la nostra cultura e il nostro viverci in queste in queste zone noi come associazione monte feltro adventure siamo impegnati a diversi anni nella valorizzazione del territorio del monte feltro e abbiamo avuto diciamo la possibilità attraverso l'appoggio degli enti locali quindi dei comuni della provincia di promuovere questo tour che è nato nel 2020 per l'anniversario dei 500 anni di raffaello ma unisce un po tutto il territorio dell'entroterra della provincia con i comuni di urbino petreano isola del piano e valle foglia sotto il punto di vista sia artistico e storico con riferimenti a raffaello sanzio e a gerole mogenga ma anche ricollegandosi a tutte le eccellenze del territorio quindi a quelle no gastronomiche naturalistiche quindi noi attraverso questa proposta di turismo lento fatto in e bike aperto a tutti quanti gli utenti sulle due ruote speriamo di dare un nuovo impulso al cicloturismo nella provincia che può rappresentare per il nostro territorio anche a livello diciamo di attività un modo di fare rete di mettere insieme chi fa ricettività chi organizza come le agenzie viaggi pacchetti turistici la presentazione di una segnaletica turistica che comprende i comuni di urbino di valle foglia di petreano isola del piano della provincia è affascinante perché fa conoscere un territorio incontaminato pieno di storia di paesaggio di gastronomia ma soprattutto di un ambiente e un territorio veramente straordinario come era centinaia di anni fa e quindi vale la pena segnalarlo non solo nei telefonini come oggi va di moda ma anche attraverso questa bellissima segnaletica che vedete alle mie spalle e che indica un percorso di 40 50 chilometri questo percorso in bici questo percorso ciclabile da urbino a tutto il territorio da valle foglia petriano isola del piano monte calvo c'è questi territori con questo modo di viverlo in bicicletta per chi è professionista magari della bicicletta chi va in mountain bike ma anche chi con la pedalata assistita con le bici di oggi possono veramente tranquillamente fare questo percorso e raccontare veramente cosa c'è in questo territorio il nostro territorio si addice benissimo a questi tour in e bike e possiamo permetterci così di pubblicizzarlo e attirare nei nostri comuni diversi amatori e che diversamente non potremmo non potrebbero venire il percorso è un percorso medio quindi che passa tra i nostri comuni e permette al turista di vivere il verde con la tranquillità che può amare con la con le bike ed ora il nostro consueto aggiornamento sul rossini opera festival che proprio in questi minuti prevede il via della terza serata alla vitrifrigo arena con elisabetta regina d'inghilterra domani 12 agosto alle 19 andrà invece in scena la prima replica di moise faraon al pomeriggio alle 15 70 al teatro rossini ci sarà invece il concerto sei sonate a quattro eseguito dai solisti veneti diretti da giuliano carella ma il roff oggi piange anche la scomparsa del direttore d'orchestra gian luigi gelmetti che a pesaro ha diretto alcune delle produzioni più significative del primo ventennio della manifestazione e il rossini opera festival sarà protagonista anche nel cortile della biblioteca oliveriana dove venerdì 13 agosto ci sarà il racconto del primo secolo della storia del teatro rossini attraverso i documenti dell'epoca si tratta di una prestigiosa serie di reperti dell'archivio del teatro resa possibile grazie ad una collaborazione con la sovrintendenza archivistica come ogni settimana tanti appuntamenti all'arena bcc di fano che in questa estate presenta un cartellone di oltre 60 spettacoli nella prossima intervista realizzata da antonio astuti vi parliamo dello spettacolo dialettale che la compagnia il guitto porterà in scena il 13 agosto presentiamo uno spettacolo dal titolo viene oltre che arcmincia è un insieme di sketch alcuni del vecchio repertorio del nostro gruppo altri sono inediti scritti questo spettacolo è stato fatto proprio per questa occasione appositamente per questa occasione questo il quarantatresimo anno di attività siamo il gruppo fanese più longevo quindi ripartiamo adesso dopo un anno e mezzo di che siamo fermi adesso ripartiamo proprio con questo spettacolo sono delle rivisitazioni in dialetto e in chiave comica di programmi televisivi sono insieme di programmi televisivi rivisitati in dialetto e in chiave comica collegati fra loro da uno sketch sicuramente ci divertiremo il nostro obiettivo è quello cerchiamo sempre di divertire speriamo di riuscirci anche quest'anno sarà un weekend di ferragosto anche nel segno delle rievocazioni storiche è il caso di rinascimentica che allieterà i visitatori di mondavio il 14 e il 15 agosto rinascimentica va nel filone del degli eventi mondaviesi legati alla cultura gastronomica rinascimentale alla presa di possesso del del ducato da parte di giovanni della rovere quindi una manifestazione sempre gradita ai turisti perché quando si parla di rievocazioni storiche c'è un alto gradimento a livello nazionale questo lo dicono tutti i dati anche degli eventi in altre regioni confidiamo che con questa manifestazione in un afflusso notevole di turisti nella località di mondavio che già comunque in queste giornate di luglio prima ed ora d'agosto conferma insomma il grande appeal e il grande la grande attrazione che ha nei confronti dei turisti rinascimenti che quindi si divide in due momenti diciamo inizia alla sera le 19 30 ci sarà lo spettacolo della presa di possesso da parte del duca giovanni della rovere e inviterà il duca a mangiare i suoi ospiti nel bivacco di sotto nel fossato della rocca il bivacco verrà allestito in maniera molto fedele ad un accampamento militare e si potrà cenare con pietanze rinascimentali e accompagnati insomma da intrattenimenti gruppo storico sicuramente sarà una bella serata dove si rivivranno un po i fasti del rinascimento che questi anni purtroppo abbiamo dovuto mettere un po da parte in seconda serata dalle 21 in poi in piazza della rovera invece nella splendida cornice della rocca roveresca ci saranno degli spettacoli con giocolieri mangia spade sbandieratori di serbigliano e non può mancare non potranno mancare gli spettacoli proprio del gruppo storico sarà un appuntamento diciamo alternativo alla caccia al cinghiale che vuole essere soltanto un diciamo ritrovarsi poi nel 2022 con la rievocazione storica caccia al cinghiale che è l'evento più importante del nostro comune ha parlato di restrizioni dovute dal covid come sarà possibile quindi partecipare chiaramente con tutte le normative attuali quindi la richiesta del green pass all'ingresso oppure se questo non non c'è il tampone entro le 48 ore e comunque la positività cioè l'aver avuto il covid nei sei mesi precedenti alla appunto alla manifestazione saranno delle restrizioni che comunque vincoleranno un pochino no il numero anche delle persone degli ingressi però è un è un modo comunque per ripartire concludiamo con lo sport perché da poche ore è ufficiale che l'alma juventus fano dovrà giocare la prossima stagione nel campionato di serie d è arrivata infatti attorno alle ore 16 la sentenza del collegio di garanzia del coni che ha bocciato il ricorso dei granata contro la graduatoria dei ripescaggi l'esclusione del fano ripesca dunque la pistoiese fra le avversarie della vispesano e come sessantesima squadra della serie c 2021 2022 vi ricordiamo l'appuntamento in prime time in prima serata questa sera alle ore 21 15 il piccolo magic castle a gradara lo speciale realizzato da rossini tv non ci resta che salutarvi dandovi appuntamento con l'informazione a domani mattina alle 7 20 sintonizzati sul canale 6 3 t di rossini tv per buongiorno rossini buona serata grazie a tutti